Eccoci qua a Piazza San Marco. Quello che cercheremo di fare è un po' di shooting run and gun, andando ad utilizzare una sola camera e una sola lente. Me lo potresti aprire il ventaglio davanti alla camera? Perfetto, così. Con ce ne sono altri due? Posso farvi una piccola clip video? La rosa, se poi me la metti così davanti alla camera. Perfetto. Uno, due, tre, vai. Guardate di là, verso il campanile. E adesso guardate me. Guardate lì verso il sole. Perfetto.